ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo video sono Anthony Hawk 2000 e oggi siamo qui su GTA San Andreas allora no ah si si va bene così questa è la seconda puntata di il cazzo è just time in pratica andremo a fare un po' di bordello sempre con i nostri soliti trucchi stavolta però facciamo qualcosa di diverso tipo sempre se riesco a mettere il trucco uzumai e mpv e so yam oh no non l'ha fatto e so yam annaggia giuda neanche così che cazzo ma perché non va e so yam ah po' allora abbiamo messo il trucco della vita giubbottanti proiettile e soldi in più le armi full clip annaggia giuda full clip che cazzo full clip ma da affacca ma da ma 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 perché non riesco a mettere questo trucco di merda scusate per il microfono oh grazie a dio un applauso ci vuole ecco ci vuole alza figlio di merda a andiamo nell'area 51 facciamo qualche casino lì a posto allora l'area 51 dovrebbe essere da qualche parte qui a giove e attenzione e no questo è monteciglia l'area 51 dovrebbe essere delimitato con alcuni cerchietti dovrebbe stare qua eccolo qua l'area 51 ok come si mette ecco la meta abbiamo messo la meta e ora ce ne possiamo anche andarcene perchè ma no andarcene si ci andiamo andarcene ecco uno dei soliti bug di san andreas che non funziona il da visuale del mouse quindi devi fare start e vaffanculo tua madre allora ragazzi visto che mi ero scocciato di andare con questo aggeggio decido di andare con un altro sembra se non cade però eh sembra se non cade con un altro veicolo cioè veicolo veramente vai vai occhio occhio ho a posto allora visto non lo so guidare bene perchè sono 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 pro no vabbè eh sì un pochino lo so pilotare ma non proprio se 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 devo fare così devo schiacciare 8 tasti per tenerlo dritto ok va bene l'abbiamo messo in rotta nel frattempo staremo anche forse si sta ah si si sta si sta io non sento l'audio di più che ho 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 spento le casse dai dai perchè altrimenti si stende il doppio neanche uuuu attenzione attenzione allora andiamo come abbiamo detto perchè ah si è vero una volta oh no no però non mi dovete rompere le palle eh attiviamo anche guida infinita e ma ma fichissimo ecco oh un mostro un mostrissimo sì però cerchiamo di non andare a spot no ho sbagliato tasto ok 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 siamo arrivati no non era questo no si per cambio visuale per subito allora abbiamo sbagliato il luogo ma c'è dove andare a cercare di uuuu 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 un motorino un trattore un aereo fighissimo no bellissimo vediamo si coppita che fa ma io ho fatto in via sta facendo tutta la sua no no non no 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 ma perché lì sei imbancato e io ho fatto in via ma facendo tutta la sua no 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 ma perché lì sei imbancato no ragazzi stiamo spacciati stiamo completamente spacciati non riusciremo mai da dare da mori il figlio di merda allora dovremmo avere fazzuta 1 sì la 2 madonna madonna no 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 per un altro episodio mettete un like commentate se diciamo vi è un pochino piaciuto questo video è solo per cazzeggiare perchè i video veramente quelli più originali arriveranno più tardi perchè sono in fase di preparazione anzi non so neanche che registrare visto che ho appena venduto della stofaz e ho fatto la più grande cazzata della storia quindi ci vediamo al prossimo video con il nostro caro cj con la barbuto ciao a tutti